Ecco alcuni momenti della due giorni in Albania nel Palazzo dei Congressi, dove rappresentanti della comunità Arbreche, ricercatori e storici provenienti da tutto il mondo, si sono confrontati sul passato e il futuro dell'Arberia. Forte il legame tra il Paese delle Aquile e la Calabria rappresentata dalla Vice Presidente Giussi Princi e dal Sindaco di San Demetrio Corona Ernesto Madeo, intervenuto nell'occasione anche nella sua veste istituzionale di commissario della Fondazione Arbreche di Calabria. L'Arberia, oltre ad essere uno scrigno colmo di preziosi elementi culturali, tradizionali, di ritualità e costume, deve diventare, è stato sottolineato, anche un luogo riconosciuto di scoperta turistica, di impresa, di fonte di lavoro e di sviluppo economico e la Calabria, con le sue numerose comunità Arbreche, rappresenta per l'Albania un partner certamente affidabile ed un interlocutore privilegiato. Ci sono spazi per creare progetti che ci vedono insieme, Albania, Arberia. Nella nostra comunità abbiamo presentato il progetto, i percorsi deradiani, cioè nel nostro comune dove il Derada ovviamente ha trascorso tutta la sua vita e abbiamo pensato di fare dei percorsi storici che raccontano la vita del Derada. Inoltre il dottor John Radovani ha presentato un progetto energetico, di risparmio energetico, di comunità e anche questo sarà fatto insieme. necessario guardare allo sviluppo economico per far sì che i nostri giovani non vadano via dalle proprie comunità, dalla propria terra e che rimangano, che abbiano un'opportunità di rimanere affinché anche questo possa essere da stimolo per mantenere in vita la lingua.